eccoci qui appena finita la partita roma 5 vittoria pilsen 0 ragazzi mamma mia diciamo che oggi è parte invertite che sto male io e sta altamente benissimo la roma però magari mi piu un anno di influenza in cambio delle scuolette della roma mamma mia davvero ottima partita appena finita ascoltate al radio non c'ho sky purtroppo e niente 5 a 0 tripletta di edin dzeko migliore in campo in assoluto per me otto e mezzo gol di justin kleivert gol anche di gengi zunder cacchio mamma mia che roma e mo qualcuno mai venisse a di e ma è il vittoria pils si si è vittoria pils andate a vedere l'altro risultato sempre dello stesso girone nostro che il cska che se non sbaglio ha battuto in real madrid adesso non lo so ancora non guardate ancora quei altri risultati ogni tanto davo un'occhiata non so se è finita o no però non me ne frega un cacchio onestamente pensiamo tra noi altri roma che si riprende alla grande finalmente dimostra che ormai è guarita nella sindrome della sconfitta cazzo ecco diciamo mettiamola così cacchio ottima roma oggi primo tempo anche secondo tempo avrei voluto anche il gol di zaniolo davvero un ottimo prospetto e niente questa oggi 5 a 0 mamma mia che roma magari se fosse sempre così purtroppo non sarà sempre così ma però diamo c'è sta vittoria cacchio che è altamente importante dopo il brutto debutto contro real madrid che forse se giocavamo così non sarebbe stato neanche 3 a 0 migliori in campo per me clai vert ha fatto davvero ottima partita sulla fascia under anche come se come quasi sempre ed in ovviamente fuori categoria come ettore marchi con il gruppo oggi almeno poi pellegrini che si sta altamente riscattando dopo le tre o quattro partite bruttissime forse è subentato anche un po di orgoglio dell'atto qui tocca dimostrare chi cazzo siamo e tocca tirare fuori le palvi lo sta dimostrando le stanno fuori direi ma tanto dire alla fine migliori in campo hanno questi ma però tutti hanno giocato bene direi dispiace che non è sceso in campo chic forse potrebbe può essere che potrebbe far gol ecco invece non è sceso in campo almeno non lo so ma pare che no anche perché stava gioca con fifa tanta partita quindi comunque niente finisce 5 a 0 direi dominata assolutamente qualche tiro loro ma niente di particolarmente pericoloso e poi adesso continuiamo così prossima parità che sarà ecco arriva la notifica tripletta di gecko roma vittoria pilsen 5 a 0 questo sapevamo a grande dopo guarderò subito i gol appena arriva la notifica del video e niente ottimo così continuiamo così adesso prossima parità in campionato contro l'empoli che faranno vedere finalmente meno quella ora posso analizzare come dio comando perché non vedendo vado abbastanza sensazioni quindi tocca essere anche bravi a fa questo un padre ascoltare bene a radio cronica e analizzare per bene i migliori in campo e peggiori anche di te oggi peggiori non c'è nessuno credo sotto almeno sotto il 6 non c'è nessuno poi domani avremo conferma sulle varie pagelle dei giornali comunque magari fosse sempre così 5 a 0 liscio insomma ricordo che ci avevamo alla prossima che già vi in champions adesso sono fuori fase quindi purtroppo l'influenzato qui sta altamente debilitando sono quasi per dirlo in un termine solziano sono quasi vuoto vabbè appuntamento alla prossima sempre 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 forza roma prossimo video che sarà con il gubbio o la roma prima non mi ricordo ma non mi ricordo più niente me questo zitto comunque appuntamento alla prossima e sempre 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 forza roma ciao